C'è un'altra pietra, il topazio, però siccome ci sono tanti tipi di topazio, il topazio oro, quello che sembra giallo come oro, bisogna prendere questa pietra preziosa, semi preziosa, il topazio non è che costa come l'oro. E si mette in un bicchiere con del vino, il vino bianco preferibilmente, ma anche rosso si può fare, però è meglio bianco perché si addice più al colore del topazio color oro, topazio giallo o topazio oro. Si mette in questo bicchiere col vino pieno, si lascia per tre giorni e tre notti nel bicchiere, dopodiché si toglie la pietra dal bicchiere e questo vino lo si mette intorno alle ciglia, col dito si massaggiano le ciglia col vino. Ci si può anche, anzi è raccomandato anche un po' di vino nell'occhio, non tanto, una goccia, così che non brucia, una goccia appena appena col dito. Questo si fa prima di andare a dormire per cinque giorni, dopodiché non si può più usare questo vino, anche se è avanzato, lo si deve buttare, questo vino che è avanzato, dopo cinque giorni, massimo cinque giorni e si deve rifare un nuovo vino, sempre lo stesso procedimento, si mette la pietra nel bicchiere, la si toglie e si usa altri cinque giorni, ma non più di cinque giorni. Il vino deve essere usato per gli occhi e questo, dice Sant'Eldegarda, è il miglior rimedio per gli occhi che si può usare. Ok, ciao. Grazie.